No, niente, da solo il postino, riavvia, no, riavvia, no, 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 però se riprendi Ok, cerchiamo sta cazzo di chiave Sento che sta cercando molto bene quel tizio, eh Dove sarà sta chiave? Parliamo, hai detto che mi dici? Eh, dimmi Eh, se stai lì fermo, sicuramente trovi tantissime cose, amico mio Dove cazzo sarà sta chiave di merda? Uh Forse qua? Oh, forse da dove sono venuto io qui? Sì, decisamente sì Che palle Ah, a livello di logica la chiave È qui dentro Oppure è qui dentro, non so Ma qua non c'è niente La chiave è qui da qualche parte Per me è qua No, è l'impressione così Intuizione che sia qui Perché è l'unica stanza Tornare tutto il tempo indietro là Non mi sembra Ecco, ecco, ecco Ok, 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 ho capito Il gioco è, almeno ti fa capire al volo cosa devi fare Una cosa molto buona Perché veramente delle volte Una storia di palle è assurda Quando i giochi sono poco chiari su ciò che devi fare Non è che li considerano essere enigmi, però Che siano chiare Non che siano chiare, che siano Comprensibili Ok, la chiave è qui dentro Devo cambiare piano Mi sta andando senza Dio, ma è che si chiama, cosa? Ok, io sto salendo Mi fa vedere dove esco Vabbè, ti vengo a prendere Sì, è ovvio Però dopo saprate qua Sicuramente ho smesso di giocare E non perché fosse difficile o cose così Semplicemente non Non, non so Non lo so neanch'io Perché appunto dopo Di giochi su computer Non c'ho tanto feeling Cioè, se un gioco devo giocare su computer Non so perché Non mi viene mai da finirlo Non è una cosa proprio più forte di me Io sono più da console, evidentemente Sai il fatto che devo stare su Quando sto a computer Mi piace più che giocare Non so, fare altre cose Quindi può essere per quello Per quello comunque La registrazione è comunque uno stimolo Per poter Mi segue allora No Devo farlo da solo Vabbè, vaffanculo Ritiro quello che avevo detto Se è inutile Potevo risparmiare la fatica A tornare giù Tanto non mi segue Dico comunque che io Sarà che sono più da console Proprio come persona Tra virgolette No Però Non Cioè, se faccio così Vira a destra A sinistra A velocità Vabbè E Sì, insomma Praticamente Sono io fatto così Che Giocare su computer Mi dà meno feeling Mi dà meno Non lo so Però non Non mi piace come giocare su console E quindi i giochi Alla fine Non so, visto che su computer Magari piace più fare altro Non so, tipo fare video Vedere robe così Piuttosto che giocare Non Cioè, è più forte Di me Non posso farlo Non posso Crederci Non posso farlo Mi 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 stufo Ma com'è che va così lento Oh Che è sti cali Oh ma sta andando a 10 fotogrammi Che cazzo c'ha Danna Dai, è andato bene Fino ad adesso cazzo va lento ora C'è poco spazio su disco Forse Non lo so Merda Un attimo Boh Anche staccando flaps Va lento No, adesso c'è ripreso Ma hanno una idea Di cosa fosse successo Ok, visto che c'è un boss più avanti Che ci fa rischiare la pelle Mi sembra il caso che tornare indietro C'è che sono degli oggetti aggiuntivi Perchè mi sembra Voi il caso C'è ovviamente Ma qui vado avanti Mi sa Perchè non mi ricordo tanto bene Dove sono finito C'è come ho fatto sto posto Perchè da tanto tempo che non ci vengo Vedete com'è quindi La mia memoria Non è più quella di un tema Ok, qui siamo all'inizio Quindi adesso cerco degli oggetti Ecco infatti Qui ce n'è subito uno Anche la munizione della pistola Va benissimo Mi accontento Non è che sono pretendenti Ti diceva chissà quell'oggetto Però Non mi dà fastidio Ecco Tanto sono qua Non è che ho fretta Non è che mi stanno inseguendo Bene, tecnicamente Ma no C'è abbastanza tempo a disposizione In teoria Dannazione Sto caldo di velocità È dovuto alla mancanza di spazio Su disco Dovrei fare spazio In qualche modo Speriamo che regga Va Anzi facciamo la cosa Io controllo E dopo riprendo Ho 74 giga Vabbè che fraps Fa pesare Un'infinità Ogni singolo Però 74 giga Porca puttana Non penso che sia un problema Quindi Posso anche starmene più tranquillo Un altro oggetto Dall'altra parte Però sta Munizione di pistola Esatto No, è una bellissima Detta che pretendiamo Di quale Chissà quale oggetto Questo qua L'inizio del gioco Niente Uh In parte Questa cosa qua 22 È pieno Cazzo Ah Diciamo che però Non appena Cioè Non appena Utilizzerò Il coso Me ne darai uno Dico Sì Rimane pieno Almeno Non è sprecato Dico questo È stato fatto Con un po' di testa Sto gioco Stati bravi Non è bravo Lo riconosco Ben volentieri Ok Andiamo qua No Vabbè Qui posso anche Non cercare più Munizione Non trovo il fucile a pompa Ma dubito Fortemente Mi sono preso paura Vaffanculo E la prima volta Mi prendo poco In sto gioco Comunque Riconoscete Il fatto che Si è boccato Ma è un jump Schera di merda Da quattro soldi Proprio Però vabbè Non è che me ne frega Molto Il gioco è bello Non perché Oh mio dio Dell'orrore Mi caga addosso È bello Perché è bello Il gioco Guarda che il fatto Comunque che Che sto cercando Gli oggetti Aiuta Questo si Perché stanno cercando Gli oggetti Dato che sto cercando Gli oggetti È più facile Perché Mi becchino Di sorpresa Qui c'è qualcosa Munizioni Utili Sempre utili Porca bruttana Sempre C'è da quelle Fucili a pompa Mi servono E non le sto trovando Nessuna parte Qui si sveglia Sto tizio Secondo me Nell'isola Del mistero Del mistero Cos'è? Ok Entriamo Adesso trova 5-6 Monstri A stanza Perché è Classico Ovviamente il gioco Dice Non è che ti Ti frego Posso entrare? Dai dimmi che posso Entrare C'è un oggetto Lì dentro Ehi Sì il gioco Ha cominciato a fare Jump scare Di merda Apri sta porta Che lo uccido Ok Qui E' bella Che Chris Sta cercando Lei E lei Sta cercando Chris Un altro oggetto Ma come M'affanculo Ok Che impieno Diventare Cazzo dici No Non dimmi che è un'arma Ah M'affanculo Oltre Muzione Fuce Pressione Oh Seguro leggo Perché è importante Istruzioni misteriose Sembra un messaggio Essenziale Che completiamo La nostra missione Il più effetto Possibile Dopo aver abbandonato Quinta e Nobia I nostri due bersagli Saranno qui Tra poco Ma non devono Compromettere l'operazione Agite in modo Appropriato Non esagerate Uno Mettete una stanza Di sicurezza L'altra stanza Percessibile Gli alloggi L'equipaggio Occupata Dell'intelligence Indica una Possibile attività Above Sulla nave Agite sempre Con il sistema Canale Materiali L'attrezzatore Spiega Vi sono Segnate Dopodiché Il banale Superiore Stanza Potremmo già Reggarnare Bersagli Ma Quindi stavolta Quindi va Svolta Rapidamente Il suo piatto Non fatevi vedere Bersagli Non ingaggiate Non sparategli Lo sapevo La preoccupazione Deve essere quella Di nascondere Lasciate il resto A me Il veltro Infine Che il veltro Verrà Che la farà Morir Condoglia Vedete il veltro Quello sono degli italiani Non so Degli italiani Fissati Con la Con la letteratura Lantesca C'è in inglese Quella c'è scritto Non so Versioni Inglesizzate Brutte Da dire La commedia Forse Forse in italiano Se in italiano E' figo Perché voglio dire E' bello Quando comunque Ci mettono Le altre lingue Dentro ai giochi Che si mischiano Così C'è Bello Bello Oh Questo è buono Si è un mostro Di quelli Merdosi Sto specrando Un sacco Di munizioni Porca vacca No Qua E arriva Un altro Mostro Si Dei condotti Dei dare azione Da qui sopra E non è che C'ho Chissà quale Intuito Non è neanche Che me lo ricordo Però è ovvio Ah no D'un'altra parte È entrato Vabbè Pensavo fosse morto Vabbè Adesso mi ha già una scusa Per usare Le pillole E testare Quella cosa Oh Che bello Quel tizio Prima è rimasto Là Non credo Appena cambia stanza Di solito Si Si tolgono Però nel dubbio No No Peccato Ha fatto la finta Col mostro Furbo Eh Sono senza munizioni Però Che due varoni Uh Guardia qua Oggetto ma In un'altra stanza Sicuro Qua ci sono guardato All'inizio del gioco Ma non c'è niente Vabbè Nel dubbio ci guardo Andiamo qui Ma c'è un altro mostro Per raggiù dal soffitto Dalla finestra Dalla finestra Vieni fuori Dai Alla prima passo Mi salta addosso Ormai ho capito Come funziona Oh Che bello Munizioni Del fucile Mitragliatrice Dimmi che la prendo Però Dai Dammi questa buona notizia Dammi questa buona notizia Che prendo La mitragliatrice Dai Dai però Me la devi dare Sta mitragliatrice Eccola qui Cambia No vabbè Fermati Nella scatola Ci mettiamo Fai pensare C'è precisione Non so Non C'è Ho le munizioni Però Non Vabbè Ti ho fuori Questi qui Tanto Tanto Dal momento che non sono equipaggiati Poi non sono utilizzate D'accordo Questa Ma vai Che bello Che bello Ok Modifichiamo le impostazioni Caricatore lungo Paralisi Ma a questo punto Posso anche equipaggiare Le altre due a questo Merda Questo qui C'è L'altro Fuoco Più potente Questo qui Non penso Che gli serva Proprio Quindi Quindi vabbè C'è nient'altro C'è una mitaglietta Una mitaglietta Diciamo Mitagliatrice Mitaglietta uguale Devo Se la carico Ecco fatto Oh Finalmente No C'è un sacco di munizioni Del fucilo Che vedo La pistola Sì Evidentemente Se avessi stato più logico Putere la pistola Ma È un'arma Che usa talmente spesso Ma Sti versi Munizioni Granate Mostri Riescono dal Del coso No Ok È lì Perché Ho visto che c'è un oggetto No 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 Ok Pensavo Di Si Guarda Vabbè Diciamo Che è bello Un po' Di tensione Cioè non è che mi sto cargando addosso Perché non è che mi faccio tanto poco ai giochi Però Generalmente È bello quando ti mette tensione Ma c'è dello sperma per la terra Carichiamo le armi Tutto pronto Fucile a pompa Pistola a pistola Mettiamo che Ok Di prato Mi ricordo che ho preciso la posizione Poi ho fatto Eccoti qui E sicuramente Lecce è mutata È diventato un mostro Da L'ho già capito Come funziona il gioco Cioè lo sapevo già come funziona il gioco E poi perché c'è labia con me Non lo so Qui lo leggo prima del boss Perché è importante Nessun indizio che Questa missione mi è stata imposta Non volevo certo venire qui A fare un lavoro Che potrebbe ammazzarmi In ogni caso La prima fase è completata Ho tenuto la chiave Della scensione Montacarico La posso accedere Alla sentina Questa nave fu usata Come base operativa Per l'attacco terrorista Quelli un anno fa Contraterra grigia Ho trovato il drone Utilizzato per diffondere Il virus sul ponte Nel ponte di plura della nave Trovare il drone è stato positivo Alla se l'attacco Non rendo mostro Sbucato dal nulla Molto meno Sapevo che questa missione Sarebbe stata una pena Sì da quando l'ho accettata Mi sento come se la testa Mi sia presa in due Ho già perso un occhio È difficile vedere Sto di merda Ora mi sento strano Anche nelle braccia Il mio braccio destro Si è diviso in due Ho il sangue sotto il corpo A scuadermi le ossa Serve subito dottore Scrittore Sei indilegibile dal sangue Eccola lì Che brutta che sei Cioè senza offesa Ho capito che ho avuto Tutti i tuoi problemi E tutto quanto però Vabbè Vabbè No zombie Uno zombie C'è fuori lo zombie Ah ci sei tu prima No non lo so Chi c'è prima Ah no C'è tutte e due Aiuto Corre Ma vuoi morire Ehi Eh Fa male Puttana Mi dispiace Che c'è la mutazione Ma non rompermi i coglioni Ecco Diciamo semplicemente Questo qua Stracciamaroni Ti riempio di granata Per soltanto che ti becco Stronza Adesso c'è un po' di rambola Che c'è il mitra Zoccola Eh lì c'è uno di quei cose Che mi spara contro Uff Ok Mi è un'impressione Forse sarebbe stato comodo Anche ci penso Dove sei? Oh merda Oh Spari conto Bastardo Non vuoi morire Oh Ce l'ho fatta a ucciderti Porca puttana Se sei resistente Ok qui dentro Devo entrare che sono già stato Max Effettivamente Mi pare di aver fatto Dei potenziamenti No Le ho stati prima Potenziamenti Poi le ho messi Palle Dove sei? Poi che cazzo ridi Dopo sono fucilate Cioè io se prendo una fucilata Non rido di solito Non piango neanche Perché mi sa che sono morto Però E che palle Sto mostro Sto pensando a quell'altra tizia Dietro di me Non lo per i miei coglioni Oh Rompi palle La prenda fucilate Oddio Via da me Non faceva male In teoria Dovresti aver imparato Che se fa male Sai come non è piacevole E che due coglioni Mori Brava Scappa Scappa Ok Non ho rilanciato neanche Una gran traconto Comunque È colpa mia Comunque Potremmo dire il fatto Che ho finito le munizioni Del fucile a pompa Sarebbe utile Cambiare arma In teoria No vabbè Ma che cazzo Uso il fucile a pompa Contro questa Che ti sta attaccata al culo Va bene così Raymond cosa Che E che pallottole Oh Sto girando la levetta Quanto tempo ci metti A staccarti Sei appiccicosa Caputana No ci mette molto più tempo Degli altri Vaffanculo Ecco cosa Uccidere tutti Ok Le galate ancora non lo usate E standoti appiccicato Al cazzo Quel tizio Quella tizia Non Ma io torno indietro Cioè C'ho zero munizioni Del fucile a pompa Non me ne faccio un cazzo Così Come che non arrivano altri mostri In quel caso Mi sarebbe stata una pessima idea C'è Cioè non avendo munizioni Voglio dire Voglio dire Mi serve meno di niente Tenere il fucile a pompa così Intanto vale che cambio Tanto il luogo me lo permette Ehi Ma vaffanculo Ne uso quest'arma qua Non ci vuole di morire Solo per quello Morto E' morto Benissimo Un po' Me lo sentivo Che c'aveva Stasciata qua De mettere Uh Munizioni Mi stanno Questa cosa Mi serve Ovviamente Mi ho dimenticato Che fosse rimasto Qualcuna Ah perché c'è anche L'erba verde qua Ecco perché c'è un mostro Capito Il gioco fa il furbo Però magari avrebbe visto Anche che avrei Finito le munizioni Dei fucile a pompa Mega stupido Le fanno i giochi Così Il più delle volte Non sono dei deficienti Cambiamo Mettiamo anche Le armi Le munizioni Ehi Mettiamo anche Le munizioni Devo guardare Sempre Un relato di fuoco Come la merda Però No Va bene così Dai Ho già fatto la foto A questo simpatico Amichetto Si Qui dentro C'è qualche No Niente Si va avanti C'è una corrente Da refredda Che vende all'esterno Ma sarebbe stato Che fosse calda Una è notte Per tutto Due Mi sa che non è neanche Una stagione estiva Quindi Mettengo la metaglietta Per il momento Unica arma Con delle munizioni A parte fucile di precisione Che comunque Non è un'arma La tenere in mano Tutto il tempo È Basata a distanza Da adesso in poi Potrebbe arrivare In qualunque momento Anzi Sicuramente arriva subito Ehi Ah no Strano Un'intera stanza Senza delay Questo qui invece no Dai Due di fila Non può essere Anche perché Sono appiccicato Al Al coso Niente Oggetto nuovo All'ascensore Dove deve arrivare Il tizio Eccola qua E mi lasci stare Un attimino Eh pure lui Mi preoccupo Per il fatto Che sto qua Mi lancia le cose contro Che è la tizia Minchia ma Sei una sega Cioè Già soffre Perché se Occidenti così Così spami un po' Di munizioni Con un colpo Solo Minchia ho fatto bene A prenderlo È potentissimo Un attimo Beh però Caricato Sì Tenere la mitaglietta Ah poveretta Sta tizia Che sfiga però Ha Ha perso un occhio In tante zoom Non deve essere piacevole Come siamo appiccicati Al coso là Quindi adesso C'è l'attacco più forte In teoria no R1 per lanciare le ganate Boh So già tutto Quello che mi serve Dove è che ho la cazzo Di Magnum La 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 Ecco qui Ma se qua è un mostro La cazzo Dai E insomma Oh bravo Dammi una mano Oh ti sto sparando contro Un sacco di colpi Vuoi morire Ok Ho tirato anche la coltellata Dai Ho finito le munizioni Merda Oh dammi una mano Coso Senza munizioni Via Ma che due palle Eeeh Da tutte le parti Io vado qua Poi magari ci sono dopo Da indietro Ma sono già Senza munizioni Ah no È il tizio alleato È la tizia Dove cazzo è scusami Mi sta seguendo Si C'è la musica Tipo dello squalo Ma per me È tutto andare indietro Se provo ad andare avanti Ma secondo me no Se non esce da qua No Ah devo tornare indietro La cosa mi stufa Semplicemente Che non senza munizioni Della metaglietta E sto fucile qua È utile Fino a un certo punto Contro quella tizia Ah c'è un po' di munizione A pistola Ma mi serve il giusto Ok andiamo avanti Mmm che palle Adesso lancio le gallate a cazzo Poi mi farò male anch'io No però Intanto qualcosa Morta? Dai l'ho riempita di coltellate Ok Sofferente Scopo ritardato Sì ma Anche se Becchi lui Non fa un cazzo Tanto in teoria Ha vita infinita Palle Sto spenotando Di quella vita Che è una roba Impressionante La 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 Ok Ammazzo una alla volta Voto? Sì Un colpo di questi Muoiono Potevo usarlo anche prima Se ero furbo Era avanti zoom Ah era permuto zoom Ok Dov'è il calabere? C'è la poltiglia Uno Due Tre Eh sono messo di merda Quattro Lei mi ha dato un casino di roba Diciotto Vabbè Eh ma va Ma neanch'io Tranquillo Vabbè abbiamo eliminato Quella tizia Abbiamo finito tutte le punizioni Quindi è stata più dura Di quanto ricordassi Ma no Che schifo Di zombie Però C'è Ma scusa Non è più morta Non è ancora morta Vabbè ho capito Le devo tenere in mano Quest'arma qua Visto che è l'unica Con le munizioni che ho Visto che ho fatto Ah 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 Vuol dire che è ancora viva Vabbè esce da lì Dai Tutte le armi Con le munizioni Ho finite C'è la pompa Non è che me lo presti No Non puoi farlo Ok O è tornata Anche quelle Ah 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 Non so perché ci fosse Ma è tornata O è ancora in giro Intanto il gioco Sta andando a scatto In maniera impressionante Ma è veramente Lo spazio su disco 74 giga Boh forse sono pochi Per flaps E vai Possiamo inserire La chiave E scendere Vediamo un po' Che succede O forse è semplicemente Stappato il gioco qua Che è pesante E allora Il computer è lenta Sento qualcosa Dritti nel profondo Dell'inferno E così Finisce anche questo capitolo Il ritorno di un incubo 43 minuti È durato? Vabbè Io dico wow Perché È stato più difficile Degli altri Molto più difficile Modellità campagna PC Vabbè La magnum forse Cioè il modello di magnum Con il nome così Io salvo Perché È consuetudine E sono arrivato In teoria Allo stesso punto Di cui è arrivato Durante il coso La partita che ho fatto da solo In teoria Vediamo Episodio 5 Sì sì Stesso punto preciso Vedete che l'ho fatto nel Novembre 2014 Ecco quando l'ho fatto Quindi boh Diversi mesi fa Vabbè Quindi direi Raph and Fox Ci vediamo Non voglio Per esempio Dio dietro Alla prossima parte Sono nella merda Fino al collo Perché ho senza munizione Solamente due pastilline Quindi sono fottuto Però vabbè Ci vediamo Alla prossima parte Comunque Fox alla prossima Ciao